volevo mantare questo video alla mia nipotina camerina che sta sulla isola di ciprio ciao camerina come stai devi chiudere le finestre della scuola perché qua arriva tutta la tua puzza di marmellata e non si può stare più te la ricordi a zia elisa ciao ce lo manciamo il cioccolato vado ti vedo ma sei sempre più bruttina ma com'è possibile che ti fai così bruttina vabbè ti salutano pure i nonni ciao camerina ciao ciao camerina e salutaci pure a carlotta